Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su Italianoraculum. Volevo trovare un messaggio per noi, per questa primavera, quindi cose che potreste aver già ritrovato alla fine di marzo, in questi giorni di aprile, che potreste continuare a trovare su maggio. Vediamo un po'. Sono tre messaggi, quindi ognuno di voi, adesso guardi nello schermo e trovi la carta che lo chiama di più, o la chiama di più, e procediamo. Un momento, un bel respiro, e cominciamo. Allora, scusate ma le luci sul titolo che è l'inchiostro dorato non mi aiutano a vedere bene. Allora, Diaspro Kambada, che ci dice di lasciare andare. Quindi, chi ha scelto questa carta deve meditare, deve accettare, deve rendersi conto che questo periodo primaverile è incentrato su lasciare andare le cose che non ci servono più. Situazioni, purtroppo anche persone a volte, e ricordi e emozioni. Quindi, quello che non ci fa più stare bene, quello che è un passato che ci trattiene, quello che dentro di noi, o al di fuori di noi, non ha più uno scopo, non ha più una valenza e una funzione, una positività per noi, deve essere lasciato andare. È il momento di fare spazio per qualcosa di nuovo. Qui invece abbiamo Bumblebee, quindi Bombo, Bumblebee Stone, onestamente non sono sicuro di come si traduca in italiano questa, però ci parla della nostra autostima. Quindi, chi ha scelto questa carta deve meditare, deve lavorare sul concetto di autostima. Quindi, dobbiamo riconoscere i nostri valori, dobbiamo riconoscere anche i nostri difetti, certo, ma sempre ricordarci anche dei passi avanti che abbiamo fatto. Non lasciamoci appesantire dalle opinioni altrui, dalle nostre stesse opinioni su di noi e concentriamoci su quello che abbiamo superato, momenti difficili per noi, per le persone che amiamo, quello che siamo riusciti a raggiungere, tutte le volte che qualcuno ci ha sorriso, tutte le volte che qualcuno è stato felice di ripagare un aiuto ricevuto e soprattutto quello che abbiamo raggiunto non solo a livello di cose concrete, ma anche a livello di traguardi puramente umani, quindi chi è riuscito ad avere una patente, chi è riuscito a imparare una nuova lingua, chi è riuscito a risolvere invece un problema, in casa piuttosto che al lavoro o nella sua vita, chi si è riuscito a comprare ad esempio una borsa, una maglia, qualcosa comunque che era un suo obiettivo per lungo tempo, quindi ricordiamoci tutto quello che siamo riusciti a fare, dal finire le scuole per chi ha avuto problemi di studio, bullismo, ha dovuto sopportare professori particolarmente ostici, a chi è riuscito a mettersi in proprio, lavorativamente parlando, a chi è riuscito a risolvere la sua crisi di coppia, a chi è riuscito ad aiutare il figlio o la figlia in un momento difficile, quindi ricordiamoci quanto valiamo basandoci su tutto, perché facciamo troppo presto a prendere tutto quello che può essere di negativo e concentrarci su quello, cerchiamo di farlo anche per le cose positive, quindi questo gruppo deve ricordarsi quanto vale. E ora l'ultima, che è la pietra di luna arcobaleno, che è questa qua, che ci dice di meditare, quindi chi ha scelto questo gruppo, questa carta, il gruppo che ha scelto questa carta durante questa primavera ha già avuto segnali o continuerà ad avere segnali riguardanti la riflessione, il vivere nel presente, il respirare, rimanere presenti a se stessi e lasciare che sia l'intuito, l'universo, il mondo degli spiriti, chi secondo voi, cosa secondo voi può essere in gioco come energie a livello metafisico, vi porti delle risposte, vi porti degli indizi. Meditazione è anche praticare l'arte della pazienza, è renderci conto di quanto è più facile affrontare la vita quando siamo saldi, calmi, concentrati ma non in modo ansioso o ansiogeno, quindi questo gruppo deve sostanzialmente aspettare, deve concentrarsi, mettersi in ascolto, respirare liberamente e aspettare che arrivino i segnali, le notizie, le soluzioni del caso. Ok, grazie per aver guardato e spero che come me mediterete sui significati di queste carte, ovviamente potete tornare a vedere il video e sceglierne un'altra tra un po'. Nel frattempo vi chiedo di iscrivervi al canale, seguirmi su Facebook, su Instagram, ci sono i dati nella descrizione del video, se avete bisogno di un consulto di carte scrivetemi o con la mail come scritto qui sotto oppure su Instagram o eventualmente anche con un messaggio di Messenger come preferite voi. Ok, grazie per aver guardato, alla prossima.